Lo ha anticipato la settimana scorsa, abbiamo davanti la scena del giudizio universale, sto parlando di padre Ernesto della Corte. Bentrovato, buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana anche a voi e ben ritrovati per quest'ultima domenica dell'anno. E ci troviamo in una bellissima solennità di nostro Signore Gesù Cristo, re dell'universo. Ma noi abbiamo davvero scelto di essere al seguito di questo re, padre Ernesto? Ma dipende dalle nostre risposte. In ogni caso questo re, domenica scorsa, ci ha dato fiducia e ci ha chiesto responsabilità. Perché, direi, quel Dio che nella Genesi dice facciamo all'uomo, in ogni caso ha fatto la sua parte ma chiede anche la nostra. Noi abbiamo l'idea di un Dio che abbia fatto tutto e poi si affaccia alla finestra e guarda un po' le cose come vanno. Qualche volta ci riprovo, qualche volta ci consola. In realtà Dio è anche uno che provoca, che è entrato nella storia, che c'è nella storia con la sua presenza e che spesso, come è successo domenica scorsa, affidandoci la responsabilità, poi ci dice Quando verrò io vi chiederò conto. Abbiamo tutta una vita, direi, da percorrere. Ecco perché il brano di oggi, chiamato appunto il giudizio universale, e chi di noi non ha davanti agli occhi quel giudizio universale della Cappella Sistina, con quel Cristo mastodontico, è un brano veramente straordinario quello di oggi. E' la finale di Matteo, di questo capitolo 25. Direi pure che presenta questo brano la singolarità del cristianesimo, perché alla concreta responsabilità verso i fratelli siamo chiamati tutti. Alla fine della vita, quando avremo quel giorno senza tramonto, come dice la liturgia, noi saremo giudicati sull'amore. E Gesù in questo brano parla di sé, come al solito, con quella categoria che viene da Daniele, dal capitolo 7, molto bella, il figlio dell'uomo. Questa figura del giudice escatologico che alla fine della storia viene per stabilire la giustizia di Dio. Abbiamo presente nella Cappella Sistina quella bellezza anche del corpo di Cristo, un corpo mastodontico, maestoso, meraviglioso. Lui è l'uomo, il vero uomo, come ci racconta il concilio. Prima anche di Adamo che peccasse, lui è il vero uomo. E la sua regalità, visto che si parla di regalità, di signoria, consiste nel compiere quel giudizio che è una misura di giustizia verso tutti quelli che sulla terra sono stati privati della giustizia dagli uomini, verso tutti quelli che hanno sofferto per colpa degli altri uomini. E Gesù in questo modo porterà a compimento ciò che ha iniziato, come dice Pietro nel discorso degli atti, passato, beneficiando e operando tanti segni in mezzo alla gente. Ha iniziato con quella meravigliosa missione, quando ne è venuto la prima volta nella carne, e ora continua nella storia attraverso la Chiesa a voler operare questo bene. Ecco perché ci chiede racconto, come dicevamo domenica scorsa, di quello che abbiamo fatto. Perché questo giudizio? Molta gente si ribelli, ma perché dobbiamo essere sottoposti a questo giudizio? Il giudizio, se ci pensiamo un attimino, è assolutamente necessario. Altrimenti la storia non avrebbe un senso. E tutte le nostre azioni sarebbero di una soggettività enorme. Ognuno fa quello che vuole, è un'anarchia completa. Il giudizio ci ricorda l'oggettività dell'amore. Noi davanti a Dio dobbiamo essere veri e responsabili. E questo amore di Dio è di un Dio che ama, dice il Salmo 33, ama la giustizia e ama anche il diritto. Ecco perché c'è l'immagine che Gesù mutua, apprende da quella meravigliosa pagina di Ezechiele, quando si parla al capitolo 34 di questo grande profeta saggiordote, sei secoli prima di Cristo, parla appunto del vero pastore. Dio è il vero pastore, non quelli che vengono, lo fanno solo come mercenari. Sarà lui a separare gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre. e porrà le pecore alla sua destra, quindi le persone positive, e le capre alla sinistra, le persone negative. E questo giudizio è al tempo stesso universale e personale. Non avviene al termine di un processo. La pagina di oggi non racconta di un processo. Io questo vorrei farlo notare alle nostre amiche e ai nostri amici. Parla solo di una sentenza. E il processo dov'è? E il processo è tutta la nostra vita. Noi siamo sotto lì lo sguardo del Signore. Ecco allora che questa pagina serve a risvegliare in noi la consapevolezza che Gesù, proprio con quel dialogo che ha, lui che è il re e del figlio dell'uomo, con le persone che gli chiedono quando mai ti abbiamo visto? Alcuni se ne sono accorti della presenza di Gesù, negli altri, nei poveri. Altri non se ne sono accorti. Quindi questo processo dura davvero tutta la vita. Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere, ero straniero, mi avete accolto nudo, mi avete vestito. Come sono attuali queste pagine? Ero in carcere. Pensate ai nostri fratelli e alle nostre sorelle carcerate e noi non andiamo mai a trovarle. Noi saremmo giudicati per non aver fatto questo agli altri. E quindi chi non l'ha fatto avrà una sorta opposta a quello di stare alla destra di questo re giudice, figlio dell'uomo. Ecco perché quando vediamo una persona oppressa dalla povertà dovremo sapere interpretare questa situazione come il frutto dell'ingiustizia che anche noi creiamo perché noi siamo chiamati a condividere, a promuovere, a stare vicino a queste persone perché davvero deve esserci da parte nostra la disponibilità a farci prossimo allo straniero, quello straniero che vive anche dentro di noi e verso il quale invece nutriamo paura. La paura si supera solo vivendola nel dialogo, attraversando queste paure. Il povero è per noi cristiani il sacramento di Cristo, lo straniero, la vedova, il bambino, l'emarginato, l'immigrato. Ecco noi dovremmo oggi riscoprire questa pagina quando nei giornali leggiamo invece questo continuo razzismo strisciante. La gente difende il proprio villaggio e noi non ci facciamo accoglienti all'altro. L'altro, lo straniero, il diverso, rivela dentro di noi, direi, quella stranierietà che abbiamo tutti. Tutti siamo stranieri e pellegrini, dice la Bibbia, su questo mondo. E quindi nell'ultimo giorno o siamo o non siamo cristiani, saremo tutti, tutti, giudicati sull'amore. E non ci sarà chiesto, se non di rendere conto, di questo servizio amoroso che abbiamo praticato, di questo senso di giustizia che dobbiamo avere verso tutti i fratelli e le sorelle. Abbiamo fatto dell'Africa una pattumiera, dice il Papa nella Laudato Si. Stiamo uccidendo questa casa comune per interessi e per soldi. Inquiniamo continuamente ogni giorno le industrie, pensate alle industrie delle armi. Quelle armi, se davvero potessimo usare quei soldi, noi sfameremmo tutta la gente oggi del mondo. Non è questione di quanti siamo. Il problema è della condivisione. gente che è egoista, che spende soldi per armarsi, nazioni che si armano continuamente. Ecco perché uno dei santi padri che più scrive su questi discorsi nel suo commento proprio al Vangelo di Matteo è il grande San Giovanni Crisostomo, il quale dice impariamo a meditare su un mistero tanto grande e a servire Cristo come Egli vuole essere servito. Lui vuole essere servito nel povero, nel fratello, nella sorella che accanto a te ha bisogno e tu sei chiamato a condividere. Alla sede della vita noi saremo giudicati su questo amore se veramente abbiamo avuto la responsabilità di viverlo. Non correndo due rischi, perché noi abbiamo due grandi rischi. O l'amore telescopico, per cui guardiamo l'altro col telescopio. L'importante è che non ci dia fastidio. Anche se è lontano, mi faccio un'adozione, non sono contrario alle adozioni, però quando viene fatta solo per scorrarsi di dosso diventa un amore telescopico. Oppure abbiamo quell'amore neurotico col quale noi diciamo di amare gli altri, ma in verità lo facciamo perché vogliamo mettere il nostro io davanti, vogliamo il nome sotto il banco che abbiamo regalato, vogliamo nella tavola di gratificazione vedere il nostro nome. Lo facciamo perché non accogliamo nemmeno noi stessi, quindi è un amore di compensazione. Non è quello nemmeno l'amore che ci chiede il Signore. Ci chiede di servirlo nel povero che chiede alla nostra porta di condividere. Avevo fame, avevo sete, ero malato, ero carcerato, avevo bisogno veramente della tua compagnia. È davvero importante che riscopriamo che il nostro Dio continua a rivelarsi attraverso il povero, lo straniero, il diverso, la persona che sta bussando in questo momento alla nostra porta. Insomma, ogni momento, quando ci troviamo di fronte al nostro prossimo, siamo di fronte al giudice del cielo. E diciamo che il giudizio e l'esito finale è già adesso, è presente. Perché è già presente, perché il processo è tutta la nostra vita, quindi ognuno di noi raccoglierà quello che ha seminato. Io cito sempre nelle nostre trasmissioni il Cardinale Martini, che parlava dell'ira immanente. Quella porta che fu chiusa non è perché lo sposo la chiude, siamo noi a chiuderla, perché siamo noi a chiudere il cuore davanti a Dio. L'ira non viene da parte del Signore, non ci punisce noi, ma noi raccogliamo il frutto delle nostre azioni. Dice il profeta, hai seminato vento, raccoglierai tempeste. Noi nella nostra zona diciamo che chi sputa in cielo gli torna in faccia. Ognuno raccoglie quello che ha fatto. E quindi ognuno di noi ha tutto un processo che è la vita per cercare davvero di vivere con responsabilità, con vigilanza, ricordandosi che l'amore copre una moltitudine di peccati, dice Paolo. Ed è il compimento della legge. Bellissime anche oggi le tue parole. Ci prepariamo dunque al nuovo anno liturgico e ricordiamo che saremo eccezionalmente in compagnia anche nel nuovo programma di Padre Pio TV che parte proprio domenica prossima, il 3 dicembre, a partire dalle 9. Auguri, auguri a Anna Maria per il tuo nuovo programma. Ma tanto ci sarai anche tu. Ah, non lo sapevo. Ci sarai anche tu. C'è una pillola di Padre Ernesto della Corte subito, appena cominciamo. Quindi ti aspettiamo con gioia e approfittiamo di questa occasione per dare appuntamento a tutti, anche ai tuoi fans, diciamo così. Grazie a te Padre Ernesto. Grazie, auguri e buona domenica a te. Shalom, ai nostri amici, alle nostre amiche. A te. Shalom. Grazie, auguri e buona domenica a te.